Il potente campo di alta pressione scandinavo si erge ancora più a nord sul solembo meridionale e continuano a scorrere masse di aria molto fresca in un contesto depressionario che ingloba tutta l'Europa centro-meridionale ed anche il Mediterraneo. In Toscana lunedì 10 ottobre nuvolosità residua su Appennino e zone orientali con deboli precipitazioni, tendenza ad attenazione della nuvolosità fino a cielo sereno poco nuvoloso, venti moderati da nord-est con occasionali raffiche forti in Appennino sotto vento e rilievi sulla costa centrale e meridionale, mari poco mossi sotto costa mossi a largo, temperature in lieve calo inferiori ai 20 gradi. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a poco nuvoloso o sereno a Lucche sulla piana temperatura minima 9 massima 19 gradi, in Versilie sul litorale minima 12 massima 17, in Garfagnane zone montane minima 7 massima 17 gradi, martedì nuovo peggioramento con deboli piogge e prime nevicate sulle cime dell'Appennino.